Professor Bobbio, qualche mese fa, aprendo un dibattito sul pluralismo, lei si chiedeva all'inizio di un articolo ma siamo proprio sicuri di sapere che cosa si intende per pluralismo? Che cosa intende lei per pluralismo? Per pluralismo si intende, non io intendo, si intende un modello di società, cioè quel modello di società in cui esistono più gruppi di potere anche in contrasto fra di loro e il potere è distribuito fra i gruppi in modo da evitare l'eccessiva concentrazione di potere, in base al principio che è bene che il potere controlli il potere. Lei ricorda altri dibattiti intorno al pluralismo nella nostra storia recente, la storia dell'Italia repubblicana? Sì, il primo dibattito intorno al pluralismo nacque al Costituente, a proposito della discussione dell'articolo 2 della nostra Costituzione, quell'articolo in cui si dice che l'individuo deve essere protetto non soltanto in quanto tale, ma anche nell'ambito delle formazioni sociali di cui fa parte. Fu appunto un giovane deputato democristiano, lo ricordo benissimo, che era Giorgio Lapira, che parlò al Costituente di pluralismo e disse che la nostra Costituzione doveva essere una Costituzione pluralistica e l'articolo 2 doveva in qualche modo affermare in linea di principio questo pluralismo. Che cosa giustifica secondo lei l'uso e l'abuso? Qualcuno sottolinea anche l'abuso che si sta facendo del termine pluralismo. Una società pluralistica corre due pericoli, di eccesso di pluralismo e quindi di frantumazione. Cioè la disgregazione. La disgregazione, la frantumazione. O di difetto di pluralismo, cioè la tendenza verso la concentrazione. Quindi una società pluralistica deve essere una società continuamente in equilibrio fra il pericolo dell'anarchia, da un lato, in basso, e il pericolo del potere monocratico, come si dice, verso l'altro. Un'ultima domanda. Qualcuno ha detto, pluralismo è una parola che non uso perché non so che cosa voglia dire. E' un termine ambiguo e dice le mode passano presto e presto ci dimenticheremo di questa parola. Lei che ne pensa? No. E' ambiguo? E' una questione di moda? No, io non credo affatto. Siccome abbiamo detto che la società italiana è una pluralistica, io credo che il problema del pluralismo è uno dei problemi di fondo della nostra società. Del resto voi avete detto che il pluralismo è la parola dell'anno. Le parole del dibattito politico di quest'anno che abbiamo scelto sono anche oltre al pluralismo, egemonia e confronto. Avete fatto benissimo a scegliere queste tre parole perché sono strettamente connesse. Da un lato c'è una discussione in corso sul rapporto fra egemonia e pluralismo, dall'altro il confronto. Il confronto non può avvenire se non in una società pluralistica.